Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. In questo nuovo video vi voglio parlare, visto che domani rinizia la scuola, almeno qui in Abruzzo, del mio primo giorno di scuola, il primo superiore. Mi ricordo che quel giorno mi ero svegliata molto presto, sono andata lì accompagnata dalla mia mamma perché qualche giorno prima c'era arrivato l'avviso a casa che dovevamo essere accompagnati dai nostri genitori, almeno uno dei genitori, perché la scuola voleva comunque conoscere le rispettive famiglie. Quindi sono entrati in questa scuola che era, pare alle medie, una scuola praticamente gigantesca che poi ce ne sono di più grandi e la Bidella ci ha detto dove dovevamo andare. Siamo entrati in quest'aula, lo stesso gigante, ci siamo seduti tutti quanti e la vicepresa ha spiegato un pochettino il regolamento, tipo niente cellulare, niente bibite durante le lezioni, vabbè cose che comunque più o meno tutti conosciamo in memoria. Ricordo che una cosa che mi ha molto sorpreso è stata che non si poteva fumare dentro la scuola o ci sarebbe stata una multa, perché di solito io immagino, mi immagino più che altro i professori che dicono non potete fumare dentro la scuola perché altrimenti scatta la punizione, ma addirittura la multa. Infatti era 5 euro ogni volta che qualcuno venisse beccato a fumare. Però io per fortuna non ho mai fumato in vita mia, quindi potevo stare tranquilla. Un'altra cosa che mi ha lasciato sorpresa è stata che ogni giovedì noi avevamo il rientro, infatti questo ci è stato detto soltanto andando a scuola, perché infatti avevamo visto che c'erano diverse ore, tipo, non so, tipo 40 ore di lezioni a settimana, però ho detto ma come cavolo è gestito tutto questo? E c'era rientro il giovedì. Cioè noi avevamo da fare ogni giorno fino al sabato 6 ore, poi arrivava il giovedì, 6 ore più 4 il pomeriggio. E quindi alla fine tutti gli studenti si sono trovati con una bella sorpresa, che poi tra l'altro la scuola non aveva anche la mensa. Quindi, quando arrivava il giovedì, tutti quanti a prendere le schifezze e roba varia alle macchinette, perché quello c'era da mangiare, oppure ci stava chi, molto furbo, si portava direttamente la pasta cucinata da casa e mangiava quello. Però erano pochi, perché alla fine la pasta fredda non piace a nessuno. E poi mi ricordo che la vicepreside ha detto, vabbè, voi andate in classe, tutti nelle vostre classi, però non avevo capito in che classe ero capitata. Quindi io e la mia mamma ci siamo avvicinate a questa signora, alla vicepreside, e le abbiamo detto che io non sapevo dove andare, e mi ha detto, mi ha detto, basta che mi dici il tuo indirizzo, e ti porto io, detto l'indirizzo, che era moda e costume, quindi le ho capito, ho capito, ti porto io, e sono entrata in questa classe, che c'erano appena, eravamo praticamente pochissimi, 14. e quindi mi ricordo che c'era questo professore che insegnava diritto, che ci ha dettato l'orario. Però lì era molto diverso dalle medie, cioè alle medie noi avevamo un'unica classe, dove facevamo musica, educazione artistica, tutto, tranne ginnastica che la facevamo in palestra, però le altre materie tutto facevamo in un'unica aula, invece alle scuole superiori era diverso. E mi ricordo che questo professore iniziò a dettare pure molto velocemente, dicendo tipo scienze aula 8, inglese aula 11, e io non ci capivo nulla. Però il genio, che voi vedete qui, proprio il genio, cosa ha fatto? Si era scritto l'orario, però aveva tralasciato l'aula, perché tanto, vabbè, le aule non sono importanti. Il giorno dopo, infatti, ebbe un grave problema, perché sapevo che lezioni avevo, sapevo che materie avevo, però non sapevo dove trovare la mia classe. Quindi i miei genitori sono stati costretti a risolvere questo problemino. Attora dalla vicepresi, direi, guarda, così, e poi la vicepresi mi ha dato tutte le indicazioni, per fortuna. Vabbè, poi mi ricordo che questo professore, non è che ci lasciò, diciamo, nell'aula, ci ha fatto fare un giro turistico per la scuola, tipo ci ho spiegato, ci ha portato nei laboratori, laboratorio sia di moda che di pittura, perché i primi due anni, in realtà, anche se avevo scelto l'indirizzo moda e costume, in realtà noi facevamo tutto. Facevamo anche pittura, anche se non era il nostro indirizzo, però si faceva anche pittura. E poi dal terzo anno in poi abbiamo fatto solo moda. E poi, alla fine, per concludere, ci portò in palestra, una palestra che era piccolina. Cioè, io mi immaginavo una palestra molto più grande, perché è una scuola così grande, che si ritrova praticamente un buco di palestra, però andava bene così. Mi ricordo che c'era quest'insegnante che parlava con l'accento dell'Emilia-Romagna, perché molto probabilmente veniva da lì. Perlomeno a me sembrava che fosse dell'Emilia-Romagna, dal suo accento, dato che ci sono state parecchie volte, in quella regione parlavano tutti come lei, e quindi ho avuto il sospetto che le venisse da lì. Praticamente lei ci ha spiegato il regolamento, la ginnastica, che dovevamo portare tutti le scarpe di ricambio. Vabbè, questo si usava pure alle medie. Cioè, tu non potevi avere le stesse scarpe, cioè, anche se tu avevi le scarpe da ginnastica, però dovevi per forza cambiarle lì. Poi dovevi avere la tuta, chiaramente, e la maglietta doveva essere per forza bianca, a maniche corte, e con la felpa, chiaramente poi la felpa te la dovevi rilevare, oppure a maniche lunghe, solo la maglietta bianca a maniche lunghe. Però lei mi ha fatto morire da ridere. Perché? Perché lei praticamente si è messa a dire. Davanti a tutti c'erano pure dei maschi. Mi sa che c'era pure quel professore che ci ha accompagnato, quindi figuriamoci. Se una femmina ama esplorazione, vuol dire che al posto di fare cinque saltelli, ne farà due, altrimenti è due. Io lì, vi giuro ragazzi, mi sono girata da un'altra parte, perché mi sta venendo da ridere. Cioè, ma non tanto per quello che le aveva detto, perché poteva essere anche una cosa giusta, ma per come l'aveva detto, per il fatto che c'erano anche dei ragazzi, per il fatto così ad alta voce. Quindi, ho detto, ginnastica, mi sa che si lavora tanto. Poi è successo che non è che fosse suonata la campanella, è che noi del primo anno, quel giorno avevamo finito di stare a scuola. Cioè, il primo giorno era più che altro per fare conoscenza, quindi siamo stati soltanto, mi sa, due ore o tre ore, non mi ricordo, quindi siamo tornati a casa subito. Bene, ragazzi, questa era la mia esperienza del primissimo giorno di scuola, anche se è passato tanto tempo, saranno passati dieci, undici anni. Non so quando, ma forse anche di più. Se i miei video vi piacciono, vi invito a vederne ancora, a iscrivervi a questo canale, ma non solo, vi invito a seguirvi anche in altri siti e a richiedermi amicizia. Però, però, ragazzi, se mi chiedete l'amicizia, mandatevi anche un messaggio in cui dicete chi siete. Tipo, ciao, ho visto i tuoi video, e cose così, perché di solito io non accetto amicizia di persone che non sono sicura di quello che sono, ecco. Diciamo così. Quindi, se proprio volete mandarmi amicizia, vi invito a fare anche questo messaggio, perché così so che siete persone già iscritte al mio canale e vi accetto, altrimenti poi rifiuto, ma non perché voglio rifiutare voi, ma perché, non so, mettiamo, arriva una richiesta d'amicizia a parte di una persona che ha pure un nome strano, mettiamo, che non ho nessun amico in comune, io perché dovrei accettare, se invece, casomai, questa persona mi dice guarda, ho visto i tuoi video, il discorso cambia. Quindi, vi invito anche a seguire in altre circostanze e vi ringrazio perché ho notato che ogni giorno siete sempre di più su questo canale, lo so che 57, 56 persone, 58, quello che non è tantissimo, però per me che ho iniziato da poco, per me è tanto e poi vi invito anche a far girare la voce tra i vostri amici a vedere se qualcuno è interessato o no i miei video. Quindi questo è tutto, a presto ragazzi!